a reddit morente ma che stai a fa' ricordate che i squali stanno arrivà e benvenuti in questo nuovo reddit paludoso melmoso come state come state ragazzi come va ma anche voi che è successo qua c'è ancora un po' dei sintomi un po' dei postumi della serata lingus ma sono pure molto sudato secondo me perché c'è questo contrasto interno che mi preme dall'interno sono anche molto sudato come va ragazzuoli fine settimana fine del weekend e come di consueto si va su reddit ciao ragazzi ciao ciao questa è l'ultima puntata di reddit per sempre se siamo rotti il cazzo tutti quella sdrubalini e questa è l'ultima puntata live che faremo di sabato alle 15 fino a data che abbiamo deciso noi ma che non diremo quindi siamo proprio rotti al cazzo i contenuti fanno cacare almeno quelli abbiamo bisogno non si regge non si regge in piedi non si regge in piedi mettite qua allora però io non partirei così prevenuto perché secondo me oggi è la giornata che ci fa ricredere e che ci farà buttare tutte queste parole che abbiamo detto al cesso perché noi apriamo reddit e sarà un mare di contenuti che ci fanno dire è impossibile quittare questo formato simone è sempre cattivo con quei redditini non è che i contenuti fanno schifo ultimamente sono un po pochini nonostante stiamo regalando una marea di perle ogni giorno perché magari pure voi ci avete da andare in vacanza a andare al mare ragazzi forse scopare scopare vabbè scopare però dico così fare delle cose quindi giustamente poi io mi baso sullo scorso reddit che è stato proprio disastroso quello di chi era poco a me è piaciuto sarà che io vabbè te lo sei visto tutto dall'inizio alla fine ho visto tutto e mi ha riportato a quei tempi così magici dove dove ancora la tv era in bianco e nero piaceva molto questo effetto bianco e nero anche seppiato no il colore mi affatica la vista ci sta comunque scherzare su una cosa originale su twitch come il fascismo è una cosa proprio che proprio spruzza originalità da tutti i pori comunque vediamo un attimo dai e che devo fare guarda il fatto che diminuiamo un pochetto magari non una volta a settimana magari ogni due non so poi vedremo potrebbe essere pure meglio ora che ha dice don vito dice in chat rieccomi ah perché se ne è andato l'ha scritto adesso l'ha scritto adesso ok ok facciamo che la prossima cosa non inerente sarà bannato mi chiedo io chi era poco 88 quindi io invece di reddit marra erbucione però sì se mi metti davanti marra erbucione e me fai rimangiare quello che stavo per dire perché io volevo partire col best off di perle della settimana però marra erbucione sì no 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 partiamo marra erbucione partiamo col best off di pelle perché non ce l'ho aperto qua ce l'ho aperto davanti se vuoi ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho io let's go let's gold tu ricordi no puoi raccontarci la storia di questa voce era la caduta culinaria ah beh sì è nata diciamo una collaborazione spontanea con la panineria e mo ci porterà i panini durante la live lo lavorativo proprio sì sì vorrei mettere le palle in testa a giovanni fois io e simone ci stiamo specializzando invece nel foot blocking guarda che c'è chi mangia sopra i corpi nudi pensa a mangiare sopra dei piedi cioè tu metti una una ragazza no pancia in sotto con i piedini alzati così dietro no è la tipica posizione da film americano sembri una sirena anche da val fiction la locandina famosa mi devo prostituire alle mie idee per pagarmi quali sono le tue idee che ti prostituisci è un discorso molto largo da parlare ora davanti a una conversazione ma questa è una giovane meloni ci aveva parlata biondina così aveva parlato alla meloni a mia idea il mitico luise kanta che prova di imbucarsi bosca grazie sepolo sembra mi butta fuori di farmi entrare in qualche modo tu ce la faresti pagando mi sta un po vedendo vedendo voglia di a porco di asmar ma che cazzo ma porco di cera riuscite a esprimere un concetto comunque una rilevanza in termini di in termini di ma chi c'ha la tastiera per far pausa nei momenti in cui dobbiamo parlare cristo iddio cristo iddio c'è sia una tastiera che usatela insomma che era un peto ma veramente è scoreggiato in live non è sentito fortissimo comunque il mac è bellissimo sì sì vedo dammi un attimo di tempo per in termini di ma non credo si quando indietro toto ha una rilevanza in termini di ma no è aggiunto è aggiunto è aggiunto però io l'ho fatta vera allora io l'ho fatta non si è sentita e per rendere diciamo il montaggio più bello è stata messa così vabbè ci sta ci sta bravo già scazzati hai fatto bene un suono diegetico no io scoreggiai scoreggiai questo qua posso dirlo ma la mattaloffia se lui ha sentito il rumore o l'odore ma ha rassentito il rumore perché ho fatto pure il classico spostamento di chiappa così no che ti alzi un po leggermente sarebbe bello avere una videocamera qua fai io vedere un po si è capito dai si è capito chi è che non alza la chiappa quando scoreggia raga cioè non è che lo faccio solo io al mondo penso tutti alzi per far fuoriuscire meglio l'aria per agevolare anche perché anche così anche perché se tu stai seduto crei tappo quindi è come se rimane lì e poi magari te sforzi troppo e te cachi sotto quindi creare la giusta uscita d'aria non fa uscire neanche residui aggiuntivi oltre aria capito io quando scoreggio salto dicono in chat addirittura perché c'era pure un mio amico che le faceva così forte che praticamente veniva propulso nell'aeremo tipo qualche c'era è proprio il classico quando pesi poco comunque che può succedere normale però la potenza propulsiva era talmente tanta grandi pedi veniva sparato tipo i razzi dei fartate no quelli fallici quelli classici ma io vorrei fare una domanda a cubi uomo palle uomo che sta in chat gli è mai capitato durante tutte quelle sempre quei discorsi quei discorsi proprio alienanti di white alfi è mai capitato e scorre già durante un discorso senza farsi scoprire sono molto curioso un applauso corale di chat architano che oggi è stato veramente dottor ottobus grazie lara che cavo a scherina stava a marra eravamo tutti tutti diversi cazzo era è piccante certo gialluca non è che ma io me ne ero perso non ho mai visto davide tentare la distruzione dello studio noi a più riprese ci è capitato varie volte a tutti quanti noi altri ma davide non aveva mai tentato la distruzione totale si 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 perché ha colpito tipo la scheda audio che si è spenta e questo ha causato il crash come dice marco anzi il crash di obs e de tutto tipo non so che era crashato si muove obs se spegni quella scheda audio c'è una reazione a cadena che fa crash a sto computer qui poi davide che proprio ce tiene proprio perché è lo stesso davide che quando viene a gialluca fa eh no ma tipo così fa ma gialluca non sbattere il microfono perché poi si rovinano mi piace così così bisogna essere e poi quelle volte che si è spenta la scheda audio un paio di volte minimo erano i miei colpi tipo duri eh sì ma pure pure sotto il tavolo una tipo un calcio può far staccare mille cose c'è un equilibrio molto precario noi vanno men cazzo quando rido più su assedia infatti io rotta sbatto tipo tutto sbatto faccio sì sì sempre avuto un po' sta cosa siamo tipo su un'astronave che se tocchi quel bullone esplode proprio il pulsante rosso tipo la scheda audio il pulsante rosso let's go da che c'era salame sulla diavola è piccante è certo Gianluca non è che è c'era qui invece abbiamo un video di Bebe Rex famosa per il famoso singolo con Ted Ghetto me myself and die potarsi pure ho letto nel chat stronzi vedi Afrojack e tu che cazzo avevi detto tu eh che sta con Letta Lamborghini per esempio questo doveva fare il Lamborghini alla seconda mi confermi che non è quello di Big Cosa quella è Afro stavo per pulire la mia stanza finché non sono uscito di testa stavo per alzarmi e andare a prendere la scopa fuma fuma ma poi sono uscito fuma fuma la modifica ti dà la modifica live modificatissima perché sono fuori di testa sono sballato non fumare c'è una new entry al lupus si presenti ciao benvenuta ciao a tutti sono la Brangela faccio il camionista non è vero si davvero ah ti facevo uno che gli piace lavorare oh ho pensato che ho sbagliato a qui dire lui è successo lui ama staganovista ah 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 stagione proprio la sono persa si ah 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 non gli piace lavorare l'ultima cosa che bisogna dire ammar dal 2018 non mi ha annichilito nessuno tranne questa sera ho perso palesemente ma poi io sempre dalle donne pure che cavolo ai tempi allora ti spiego perché ti spiego perché adesso non ce l'ho ovviamente però ti spiego perché allora non puoi sostenerlo perché non è una fonte non puoi sostenerlo non è una fonte non è una fonte le fonti e non puoi sostenerlo dove trovi le fonti tu non c'hai il cervello non ce ne voglio dire niente non c'è niente non c'è niente dove è il duca stavano di pure prima no non sta bene il duca mi ha scritto stamattina e mi ha detto sto malissimo sto accartocciato non ce la faccio a venire ho appena ridato che stomaco vabbè sta male purello non è la cosa che ha detto che è la scusa perfetta per per dare buca alle occasioni col video di Lillo Gianluca esatto allora smettere di cagare immagino sta soffrendo tantissimo in questo momento è una sofferenza io ci mancherei a tutti sei stato un grande l'ottimismo dell'Italia no no Marco Silvio Berlusconi punto risorgerà punto risorgerà ritornerà prima o poi praticamente lui parte dalle dichiarazioni di Boldi delle dichiarazioni effettivamente molto strane e da lì un ragionamento ragazzi inutile che ridi eh no 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 ricordi me cazzo eh l'ultimo giorno di Berlusconi dove è stato visto pubblicamente è andato al bar e si è preso dei ghiaccioli primo indizio Berlusconi si è preparato alla criobernazione un villain infinito cioè è tipo un leech come su D&D cioè noi sappiamo che potrà tornare come un cazzo di non morto e magari fra 200 anni gli daranno una cosa che potrà vivere per sempre ma ovvio ragazzi qual è il tuo tipo ideale? il mio tipo ideale? me stessa allora non sono fidanzata quindi no importante perché? perché sta cosa? Maggi è single vai in palestra gli atti marziali si attenzione eh Laura Angela c'è questo nostro amico che fa palestra è istruttore l'or di marra e mezzo personal trainer grazie un bel fisico fisicato e un esperto di cinema ti interessa probabilmente a Maggi se gli chiedete qual è il tuo tipo di ragazza ideale lui risponderebbe me stesso è bellissimo è bellissimo se vuoi fare una petizione per far tornare indietro il pizzetto di Meliator? fate pausa se uno parla eh? il pizzetto di Meliator può tornare? dai no a me mi stabilizza allora la live che avete parlato delle Maggi che ci stava lui tipo in collegamento io stavo eh lontano dal pc beh stavo a casa e guardavo chi è? la prima cosa che faccio quando ho letto lo schermo faccio ma che cazzo ma ancora Maria Sofia ma che cazzo devi dire Maria Sofia vado la ma vicino non è Maria Sofia ma no chi è sta raga cioè perché se stavo a vedere male tipo ancora ancora tipo me ero svegliavo da poco non so che cazzo poi a un certo punto ho realizzato che era lui ma proprio destabilizzato cioè ci sembrava Maria Sofia nel senso bello o nel senso brutto allora no 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 sì bello o brutto nel senso bello o nel senso brutto è una vita no è strano perché è una vita che dicevo secondo me se Meliator si eleva e il pizzetto diventa ancora più Chad spacca di più sta bene senza pizzetto però io non lo riconosco più cioè mi fa strano lui parla e sento parlare una persona con una voce che conosco ma una faccia che non riesca a riconoscere proprio me sento male quindi non lo so sta bene ma giusto giusto è come quando vedi c'è stavo io con le maniche la gente è rimasta un po' stranita è proprio un discorso che tocca venire un giorno tutti quanti fuori proprio il nostro contesto visivo tipo vestiti e pettinati in maniere non da noi penso che ti ricordi quando avessi il filtro pelato tipo che basta io me lo immagino allora io pelato vestito tipo in un modo che non saprei però Dave me lo immagino senza cappello con i capelli lunghi con un con un proprio con un giro collo a maniche lunghe secondo me farebbe troppo rite Dave senza firsiche senza niente senza cappello con un giro collo a maniche lunghe ma io l'ho raccontato già quando ho spaventato Marta no come è spaventato no se ve l'ho raccontato quando io ho fatto lo scherzo e mi sono presentato tipo vestito diverso dal mio solito vediamo un po' no 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 dillo io per dirlo una volta mi viene in me dico sì sì no no è solo uno uno solo ok mi è venuto in mente stavo a casa dovevo andare a prendere Marta e faccio la voglio proprio fa svarionà allora vado nell'armadio di mio padre e comincio a prendere i vestiti dell'armadio di mio padre e mi metto dei pantaloni tipo dei velluto con le pants con la cinta mi metto poi una camicia un cardigan col cravattino e poi prendo degli occhiali vecchi di mia madre e mi metto e praticamente e poi senza cappello e non mi raso la testa quindi ho pure un po' dei capelli così e vado a casa sua e me le avevo i piercing ah greve ma da casa sua cioè me volevo vestiti tipo un po' come se vestirebbe Ivan Griego per andare a fare il TEDx un po' da ok da signore da signore molto specifica ma molto evocativa allo stesso tempo e niente praticamente lei invece di di ridere o semplicemente estranirsi ci ha avuto un effetto particolare si è spaventata spaventata cioè allora io entro a casa lei fa chi è oddio cioè no ma riconosciuto ovviamente lei era un'altra persona ti potete rimpazzito però non riusciva la prima domanda che gli è venuta in mente non è stata cioè perché sei vestito così ma stai a fare uno scherzo ma che è sta cosa la prima domanda che gli è venuta in testa è dove sei stato e me lo chiedeva a oltranza e ma dove sei stato dove sei stato no te sto a fare uno scherzo e nella mente sua la prima cosa che è venuta in mente che fossi andato tipo che ne so volessi cambiare il lavoro smettessi che la musica erano andato tipo a fare un colloquio che cazzo ne so però è rimasta stranita per tanto iperventilava ma no no io così e non riuscivo a calmarla c'era tipo stunnata a livello certo dove sei stato dove sei stato mi ricorda quei video tipo dei bambini che si mettono a piangere quando vedono il padre sbarbato per la prima volta tipo c'era uno shock ma il particolare assoluto è che c'avevo le Hogan c'erano le vecchie Hogan della volta che c'erano in mente c'erano queste Hogan una roba horrible che taglio toccherebbe farlo comunque è una puntata dove stiamo vestiti strani rispetto come siamo noi ecco non strani in generale tu Simone quale sarebbe l'abbigliamento e la pettinatura più lontanata perché tu comunque sei stato sempre quello un po' più esatto trasformativo volevo parlare di questo la gente vuole una consistenza nel look di chi segue perché si affeziona tipo i pulcini si affeziona la prima immagine che vede di te quando gli fai un'impressione magari buona inizia a seguirti io mi ricordo pure gente che ci è rimasta male quando ad esempio mi sono tagliato i capelli la prima volta perché ogni volta che cambi look ti fanno eh ma perché perché stai meglio prima ma è sempre così ma pure questa cosa del pizzetto di mediator è quella dinamica lì cioè voglio che sia come me lo ricordo io come fa piacere a me non come gli pare a lui quindi è un discorso di immagine pubblica come ha detto anche già Luca io me ne sono sempre sbattuto perché non gliela faccio essere consistente non ce la faccio avere un look che è sempre quello ma perché proprio non ce l'ho mai avuto in tutta la mia vita invece altre persone sono più hanno più sempre lo stesso look per tutta la vita io proprio cambio non ci faccio caso mi è venuto di farti questa domanda appunto per questo perché non riesco ad immaginare un look che sia lontano da te o una pettinatura che sia lontana da te perché t'ho visto in ogni modo t'ho visto pure pelato video pure coi capelli tipo quel video che avevi fatto avevi i capelli tutti quanti indietro ingelatinati pelato qua pelata solamente sopra la neocorta ti sei fatto vedere in ogni modo quindi effettivamente riesce difficile immaginarti perché è divertente giocare con i propri peli ma guarda sì ma poi allora diciamo che avere una consistenza nel modo in cui ti presenti pubblicamente aiuta nel personal branding infatti la maggior parte degli artisti tu li vedi diventa un po' triste quando diventano vecchi pensa un po' magari in Mick Jagger oppure un Axel Rose che continua che ha bandana in testa con giubbottini dei jeans però aiuta ad avere una consistenza ad essere riconoscibile e quindi sviluppare il tuo personal branding a meno che tu non rendi il trasformismo parte del tuo personal branding in parte ero fatto Tommy Cash Madonna negli anni quello è necessario quel personal branding che cammino sempre Bawi Renato Zero esatto eh sì quello è figo e sono magari quegli artisti che mi affascinano pure di più perché c'è creatività si vede anche nel nel modo di porsi e poi vabbè tramite il tuo rasarti i capelli abbiamo anche scoperto la tua discendenza da Cicalone eh beh se non ci fosse se ci fosse stato quel momento nessuno si sarebbe accorto e beh abbiamo sicuramente antenati in comune lui risponderebbe me stesso è bellissimo è bellissimo appunto è bellissimo e lui che è successo 130 kg di panca piano piccolo flexino sappiate che 130 kg di panca piano pesano ma nebbiano sai che quanto peseranno mmm guarda facciamo due calcoli ma cosa quanto pesano 130 kg di panca piano pesano quanto pesano e poi ci ha lasciato così quanto pesano ma va almeno 120 almeno perché il bilanciere sta sui 10 15 no quando dice 130 kg di panca piano si conta anche il bilanciere in genere allora sono 130 kg sono 130 ah vedi era più facile di quello che credevo se tu dici hai caricato 130 il bilanciere quello regolamentare insomma da fitness sono tipo una ventina di chili in genere ah dipende quanto è largo quanto quanto è spesso penso dai 15 ai 20 kg forse anche 25 quindi il peso generale non è mai approssimativo se io dico che sono 130 kg sono 130 kg complessivi di ogni peso che alzo eh si se conti il bilanciere si se no conta 20 in più era molto più semplice di quello che pensavo grazie però ovviamente per uno come lui che ci tiene a tenere traccia della performance se fossero stato escluso il bilanciere cioè se te lo voleva raccontare in quel modo non avrebbe mai escluso il bilanciere avrebbe detto che ne so 150 che se stai a far capire che sollevi tanto che fai lo sconto da solo quindi aveva messo 110 barra 115 kg di peso esatto spartiti metà a sinistra e metà a destra però come si fanno a spartire 115 kg devi fare 57 posso ritirare la domanda che ho fatto così possiamo andare avanti ci sono anche i pesi quelli con i decimali con la virgola quindi 2,5 no esiste ma tutto puoi fare esiste anche che ne so 2,135 periodico ad esempio li fanno come vuoi tu tra l'altro li puoi anche dividere in 3 parti c'è il bilanciere quello a 3 e tu lo puoi dividere in 3 sezioni hai mai fatto il bilanciere a 3? certo certo tu t'alleni col bilanciere a 3 in genere? sì 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 è una preferenza è una preferenza mia è una preferenza mia lo farei provare pure a Simone però effettivamente Simone secondo me ti piacerebbe possiamo andare avanti sì ma era un discorso molto interessante sì sì perché 130 kg volevo capire ma no sì sì 88 kg si può fare al momento oppure è probito 88 ah no mi dissocio mi dissocio mi dissocio qui fa 130 kg di panca piana piccolo flexino sappiate che 130 kg di panca piana pesano ma ne piano c'è sai che cos'è il One Piece? sì One Piece lo guardavo sì sì solo perché aspettavo Dragon Ball però bravo la coppia perfetta sono un cuore One Piece è uscito il trailer di One Piece live action quanto t'ha notato da quando ero bambino volevo allungare tutte le parti del mio corpo ci sono riuscito qual è l'unica che sei riuscito ad allungare? tutte tranne quella che volevo io evito di sparare cazzate meno male preparite che scandisce il tempo io non posso criticarlo ma l'hai visto questo Dave? il tuo crucio che dura un'ora? ah si si porco due e poi arrivava proprio nei momenti giusti in cui c'era da cruciare era tipo sempre sbalordito ogni volta che partiva un crucio era tipo perfetto lo rimetto adesso prego vai vai un'ora di silenzio occasionalmente interrotto da crucio sto avvelenato bravo bravo Dave perfetto sull'imparate cos'è la vera musica Dave arriva bellissimo c'era diventato il simbolo degli esch esch aschish l'ammanizia aschish la bella vuoi ricordate? poi sono passati al gattino mi chiamo virgola sono un gattino vabbè storica orco dio volete le faccio vedere pure vai 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 ah no 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 bellissimo ma vediamola ma che ce frega ma diceva lei sono curioso mi ha guardato mi ha guardato mi ha guardato una faccia un po' bella che era tipo dimmi di sì vediamo uno stesso in realtà non lo volevo vedere con ciccio bello bellissimo e angelo nello sono nego ma questa è geniale bravo vicino al ban a vita eh i baritoni sono tutti pugliesi hanno il tono di Bari ah ho pensato tutti pro nel mio caso sarebbe stato giusto no no non è così ah non te l'avevo detto no oggi non si poteva fare live su youtube top gag bravo bravo grazie a Wu Franklin come si chiama quello crudo armageddon è quello che hai messo te armageddon sì sì armageddon armageddon chi cacca io pensavo si riferisse a Davide perché guardava di là ma non so manco chi è lo volete pensavo che era amaro armageddon armageddon chi era era lui sembra armageddon armageddon ti fai guadagnato mazzo tutti perché padre ti voglio chiedere una cosa perché ti sei fissato con Dexter cattivo ti posso dire secondo me non è non era il veggente mi posso spiegare perché il mio ragionamento figlio e vincono i villici Lupi Laurangela e Valeria Insinuo Gianluca Wendigo Robertone Cavaliere Adriana Veggente Dexter Giustiziere Meliador non se ne piava più ma che cazzo vuoi ma che fuori Don Vito è fuori da ogni realtà sembra sempre che si sta guardando Don Vito guardami sei stato da spato dal Cerbero Universe ora è come se non ci fossimo mai conosciuti ti devi riconquistare tutto quello che hai la parvenza di aver conquistato da zero proprio da adesso vai era entrata una persona che non doveva entrare no no basta lui fa sì si fa così questo è perfetto per me e poi ragazzi prosegue non serviva l'orgasmo bello ok molto 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 carino vai settimana divertente poi vorrei pure ovviamente il montaggio con il continuo della storia d'amore tra Laurangela e Maggi che secondo me vale Laurangela Maggi mi suona proprio nome e cognome che ci stanno proprio bene sì come Pino e Balangeli è il doppiatore come no Laurangela Maggi Laurangela Maggi pronti per il matrimonio eccoci qua per il ready che si intende per erbucione erbucione significa tipo uno che c'ha un culo grosso oppure uno che c'ha che è fortunatissimo che ne so non ne so quelle classiche cose che dicono quelli che non so di Roma vanno fai battute in romanaccio erbucione però effettivamente se dice più al femminile non sbuciona come utilizza molto spesso David John Rubino senti bucione utilizzato per un maschio non l'ho mai sentito è originale è una cosa arcaica però significa che hai un grande buco del culo sì c'hai un culone dai c'hai un culone grosso ma non è il culo è il buco l'ano no no sbuciona è più quando tutto il culo è certo è che il buco però bucio è il buco sì però sbuciona si usa di però bucione significa buco grande marra erbucione c'ha erbucione c'avrà un buco del culo enorme vabbè mo vediamo insomma marra erbucione ecco infatti vabbè se uno ha un culo grande c'avrà anche il buco del culo grande c'avrà pure il buco grande noi stiamo tutti cali ma che era franchino c'era che cazzo aspetta devo ricominciare ricominciamo che è un sacco di roba appunto aspetta c'è troppo da processare capito qua c'è già che Alex sì con non mi ricordo la ragazza degli uffizi ok poi c'è Cicalone qua che fa una cosa ma chi l'ha fatto sta roba il non in grado si chiama non in grado tu hai appena salvato l'universo di reddit nel senso noi siamo entrati qua dicendo ah ci sono contenuti poveri questa cosa da sola ha già salvato reddit esatto che talmente fuori di testa sì è il più votato della settimana giustamente forza droga vediamo quindi abbiamo detto unilingus che si arrapa tutti ci arrapiamo ma che c'hai di sua maglietta che gira Simo c'hai una cosa che ti gira sulla maglietta io voglio capire tutto non bisogna perderci nulla Prime Dudubi e Chitano con la falce e il martello negli occhi vedi io per esempio non l'avevo visto qua io qua vedo solo occhi rossi tra tanti dettagli bravo poi chi era quello Cicalone Cicalone sempre Canepazzo Franchino e Max e Max manuale per scopare Franchino che c'ha tatuato tutta la roba del re leone ma che poi lui c'ha tatuaggi stile yakuza diciamo c'ha avuto lo stile giapponese Franchino sia petto che braccio e Canepazzo che c'ha? Canepazzo c'ha una maglietta che c'ha scritto e Franchino c'ha il tatuaggio ti rendi conto a chi si addi sti cazzo su Franchino e uno triplo Pompi dietro poetico quasi Pompi che ci sta scritto sopra il cuore spezzato dei pompi che è? pompiamo dal pompe romane ordine avvocati di Roma io c'ho basta così è infruibile questo non ha non ha alcun senso Dave senza l'aduaggi Rubino sul motoscafo zi bellissimo c'è troppa roba non riesco allora Rubino zi è uguale c'è scritto SS ostialito non riesco c'è questa roba è tipo una roba unitica niente ha senso è tutto bellissimo è bello è bello mea culpa e giustizia petwiner che Davide col cazzone sotto ti cambia felpa ogni quattro secondi ma io ho già capito il tipo vuole una reazione da parte mia e la sta cercando dalla prima slide cioè copyright per Cepero Podcast 2023 per Simone se no piagne per l'uso della sua immagine poi la prima cosa che si vede è Dudubi Prime cioè quando Dudubi faceva ride poi abbiamo ordine degli avvocati probabilmente non ci sarei mai arrivato perché ne manco avevo letto lo capisco quando uno mi vuole fa tilt e bravo ce la stai quasi a fa quasi hanno scritto in chat c'è gente che è tutto azzurro qua ci stanno le porte quello è lo studio oddio ma davvero hanno scritto un ragazzo in chat prima ma è ovvio che lo studio ma c'è sta pure il pannello ma capire c'è sta i pannelli come ci abbiamo noi e c'è sta addirittura guarda inquadrame dove stai guarda quella roba vicina al pannello dall'altra parte rispetto a Rubino è questo è vero ecco che era pensavo che pensavo che era tipo uno spazio che si apriva in un mondo fatto di linee l'opterodate quella è la lavagnetta guarda è paro paro lo studio ma veramente non c'eravate arrivati no vedevo un azzurro pensavo fosse il cielo che cazzo ne so vabbè sembrava il mare esatto esatto anche poi c'è la Rubino la sabbia al mare c'era Ercole sì vero a destra Ercole oddio Visconti vestito della Lazio oddio tutto un multiverso e questo al centro è Don Vito se credo Salvini è Don Vito esatto Don Vito versione Giojo che taglio da giorno Giovanna grazie per questo trip bravo bravo dai ci vi piace bravo complimenti il non in grado bravo bravo baciamo le mani al Duca Corleone abbiamo visto sette giorni fa sette giorni fa l'abbiamo visto questo qua che è? Elon Musk vi ha trovati credo oddio sai che non riesco a capire ma quello sotto che è? che è una piscina? no stiamo calmi quello sotto è il nostro studio siamo noi sicuro che è il nostro studio? boh non lo so sembra il lago Trasimeno vedo dei bordi sai che è? mi ha ingannato il lago Trasimone mi ha ingannato perché c'è sia l'acqua bianca c'è l'acqua celestina sia l'acqua verde come ben sai Simone la profondità dell'acqua cambia anche il colore quindi non sono così sicuro che sia lo studio ci sono anche tre scogli? no ci sono quattro coglioni è l'animalia sbagliata pure poi c'è Elon Musk che tipo cyborg ci scoperchia il il soffitto è bello perché mi ricorda un incubo ricorrente che ho raccontato anche una volta mi pare al cebbero cioè che era così solo che a scoperchiare dove stavo era hit un hit Pennywise gigantesco che scoperchiava la casa dove stavo e mi prendeva e mi mangiava tu stavi in casa o stavi in piscina come qua? no sì stavo in casa in casa ok perché la piscina non ha un soffitto la piscina ma che cazzo stai a dissi stanno anche piscine coperte tu quando sei andato in piscina da ragazzina a far nuoto stai all'aperto l'inverno ma che tristezza però meglio all'aperto hai ragione però diciamo che quelle al chiuso sono più piscine sportive ecco sì oppure da ricconi sì quelle che te fai le famose vasche tipo mi sono fatto tre vasche let's go bello istruzioni non incluse qualcuno mi può linkare i video ispirato a un tele ma vabbè nuova leva pubblica sto video di otto secondi vai come farite solo la voce stanotte ho fatto il sogno cos'è il Luke? oh mio dio cioè inizia con il mondo di gitano e poi parte la canzone di Luke 4316 con una sua foto di tipo 15 anni fa ma che cazzo questo è e il cringio dice ok ma poi stanotte ho fatto ma che è quella canzone? stanotte è quella del Luke che usava come sigla ma è cantata da lui? no se le faceva fa su misura da un ragazzo che faceva canzoni mi sembra l'aveva fatta pure altri creator l'aveva fatta mi sembra non vorrei sbagliare che troia ragazzi più di una Luke ne ha di canzone te le ricordi Simone? che ansia te le ripi io mi ricordo il king del farweb che gioca a minecraft ne vogliamo ascoltare una? vai metti il king del farweb che gioca a minecraft stanotte ho fatto un sogno vuole sentire quella? vai vai metti ma posso rifare io? gli serve ancora una sera? ne ha 4 scrivete un video bravo vedi che ogni tanto poi magari neanche è vero e dovrò ritirare tutto quello che ho appena detto quale devo mettere? metti stanotte ho fatto un sogno voglio chiamarlo da oggi in poi Luke 4388 200.000 cuori pixelati ufficial song è Gianluca questa è si si è lui si chiama Gianluca che comincia con l'intro della roba trap 8 anni fa ma come si fa? figo figo ho lavoro da fare con la produzione vergognosa così ironicamente ho conosciuto un bambino di nome Gianluca davanti a un circo fissavo una tigra cresciuta ad occhi aperti sognava di diventare qualcuno il suo destino era scritto diceva numero uno e poi si è visto e che sta faccia? pensa poi a distanza di anni quando la risenti ma si ma tanto c'è no vabbè dico perché è una produzione vecchia il suono è andato avanti il suono dici si 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 il suono è il numero uno ma come cazzo comprimete ste casse per dio vabbè non voglio manco parlare il conoscitore il numero uno vabbè ma tanto chiunque dica io sono il numero uno se sta mettendo standard che dici vabbè per i risultati e guadagni vabbè come nel rap che qualsiasi canzone uno fa tipo le prime che scrivi tipo il primo banger che fai scusa infatti da solo me lo dico fra le prime ci sta sempre quest'anno è il nostro anno certo per forza che cringe ciao conoscitore iraniano credo di aver capito ah magari sembra quella la pinkie winky si il conoscitore iraniano irnia il conoscitre irniano vabbè perché non è italiano non ti scrive male in italiano non ti scrive male in italiano conoscitre bello e chiede che ne pensi Simo? bello fa ride no? vabbè ha fatto ride? no è una roba dunk te dovresti saperlo eh quindi fa ride perché è dunk giusto è dunk no infatti le cose che fanno più ride sono quelle che capito che ti devono far ride per forza sono quelle proprio più esilaranti della storia che è questo? tempo fa non c'è l'audio? ah è proprio così no perché creazione del duca eh sì perché sembra tipo dio che tocca ad amo ma quanto erano buoni però c'è un nome complicato io mi sono già scontato come si chiamano ribes i ribes rossi l'avevi mangiati? buonissimi sono troppo aspri eh lo so però vanno bene alla prostata bravo bravo vanno benissimo alla prostata bravo 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 tutto ragazzi bello in quei quasi 40 anni sto curando un po' la prostata coi ribes sì mondo di chitano mettetelo come sfondo del pc vi prego urgente no madonna sono tutto rosso ammazza l'occhio giudice Simone le vecchie leve oddio vediamo dopo i noti dà appena arriva lo schermo lei Jackson esatto sai cosa fa Ivan in banca in gregio in banca in gregio si andrà proprio così ragazzi abbastanza accurata andrà così grazie Erdandi vi ricordate questa live? no o no ma di che stiamo a parlare? wow attenzione no un po' di rispetto dai però che figure mi fai fare? ma che cazzo oh dio è muta sei ricordata live the crash sì ma su quale canale? c'è scritto Cerbero Podcast no non è il nostro layout chi se lo ricorda in chat mi è venuto in mente ora me l'avevo rimossa ma sul canale di ah sì di quel due quei due sul server ci avevano dato l'accesso al canale per fare una live ah e non potevamo bestemmiare e non si potevamo bestemmiare però ho detto l'abba tutto che non bestemmiate si vuole prendere il microfono porca madonna mi piace così per quello io dico no alle bestemmie ma infatti inizialmente stavo a dire allora mi ha stunnato il layout però ho detto boh forse hanno preso una clip ricaricata e poi ho detto perché io mi lamento di una bestemmia che fatti ma guarda questo e non capivo io che mi lamento che la bestemmia è uno strumento di autodeterminazione e di protesta e tu si come ti aveva un imposto di non farla l'hai usata come strumento di protesta in quel caso sì assolutamente e mi ricordo perché ti hai rimesso tu d'accordo con loro quindi era più una cosa che stavi gestendo tu capito per quello quindi orca non so se tu se lo sapevi o no sarà una gag non mi ricordo se è la prima cosa che dico lo faccio così col megafono significa che lo sapevo vai vetti attenzione un po' di rispetto ma come sono andate le altre live che ho fatto sul canale loro ma solo questa mai più ma come mai ma in realtà solo una doveva essere ok che ricordo che loro avevano il canale e avevano ogni ora ora e mezza content creator diversi e io stesso gli ho detto ma ci fa piacere se la famo pure noi dai famola che loro avevano appena aperto il canale era tipo fresco 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 e noi ci stavamo da qualche mesetto ma poca roba ci stavamo nella mia stanzetta stavamo una maratonetta insomma dove ospitavano tutti quelli che già stavano bravo stavano in live in botto di ore e si alternavano loro con altra gente e c'avevano proprio un programma mi ricordo proprio capito che la gente si prendeva i slot si organizzavano poi non so quanto durò è tipo Dario Moccia recentemente ha fatto la maratona che aveva ospitato tutti gli altri creator ah no non l'ho visto tipo la maratona che faremo noi quando non si può dire ancora vabbè quando la faremo che faremo non faremo con altri creator ma vedremo la Royal Rumble in loop vabbè questo si può dire 800 mila volte ci può stare ci può stare ci può stare zeb le ceson fe hello max from le ceson fe hello zeb from is gamer passato il futuro perché mi portano gli occhiai da sole e quindi fa ride beh sì ah sì perché non state ridendo perché non è l'uld è l'uld perché nessuno sta ridendo stiamo guardando reddit perché nessuno ride qui io mi sto trattenendo perché non è che se possa sempre ride voglio per una volta voglio fare una persona seria se no mi dicono faccio sempre cazzate rido sempre però fa ride io non stavo ridendo per un motivo stavo pensando ma oltre gli occhiali da sole hanno tante altre cose in comune secondo voi quali? cioè se devi fa una battuta falla oh bella Ray Di Ancient grazie mille non è una battuta io sono serio secondo me hanno tanto in comune cioè ma che ha donato che sub Ray Jackson cioè è il migliore di tutti Ray Jackson che c'hanno in comune? o volevi solo di una cosa e far rispondere l'altra che non gli piacciono i comunisti? primis quello è vero pensieri pensieri credo sulla famiglia tradizionale siamo a due quello è vero e poi possiamo arrivare ad altri l'essere emigrati hanno molte cose in comune non sto scherzando sono emigrati entrambi sono andati a vivere entrambi sono andati a entrambi hanno abbandonato entrambi l'Italia entrambi su un'isola credo non sto scherzando FB bloc pure bravi Canari e Malta si ci può stare entrambi su un'isola ma io ero serio regalo perché pensate che dovevo fare una battuta? sono serio? sono due personaggi che hanno molto in comune è un meme azzeccato non fa ridere e una volta avevano un canale di grande successo vero che poi adesso per varie vicissitudini non è più così che hanno abbandonato per imprenditoria entrambi non c'ha i ratti però ci sono feo c'ha i gatti che carini i ratti c'ha i gatti i ratti c'ha i sorci bellini molto carini sì 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 poi non so che durano poco i sorci magari saranno già schioppati quelli perché erano tipo è che purello durano due anni stai a parlare dei sorci le quattro anni fa e durano due annetti i sorci no ragazzi in chat mi confermate? un campione che non vedremo mai in campo vista la recente decisione del ministro dell'interno psicologo Victor Lazio 88 non esiste non può farti del male Victor Lazio 88 Victor Lazio 88 questo qua fa ride fa sorridere Victor Lazio a me fa ride l'88 che c'ha nel nome suo però parido mrak mrak male marrak marrak che sta succedendo? la prima la seconda dici non ha senso Dave ha cercato su google età media e le ricerche suggerite fanno ride e sono bannabili R-A-Z o qualcos'altro ma non riesco a capire perché le più ricercate sono queste forse la prima si capisce vabbè ok ok ratti marrak marrak i tuk tuk e quelli sono i tuk tuk pensa che taglio risciuti ma andiamo al lavoro regà pensa che coglioni però 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 ti ha bene capito hai setta arriva risciuto po' 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 me tiriamo di getta sotto sei a top ho poi fatto pochissimo è di ieri sera sta cosa puoi prendersi lo cerbero è di ieri sera sta cosa ciao ciao No ma io sto a leggere pure la chat Oggi è proprio un flusso Ma quello è quello che immaginavo a lui Nella sua mente Chi è che l'ha fatto? Perché questa qua è una cosa che è accaduta ieri Quindi lui si è messo dopo la live delle 21 Finita più o meno alle 22.30 Per caricarla oggi 12 ore fa Posso fare una citazione cerberesca E dicevano che il reddit era morto Ma chi? Questi coglioni È proprio un coglione È palesemente vivo L'età media di retti è proprio informato al 100% L'ho cercato adesso, è due anni Lo so, sì È come se tu vedi in cane 20 anni fa Uno dice, vabbè, sarà morto E fai, no, no, ma che dici così 20 anni Sì, ho capito, però nel senso L'età media di cane è un po' sesama Tu mi hai ricercato da qualche parte E da media del ratto E tu vuoi fare il rattino? No, io mi farò il rattino Che carucci, portali Poi portali qua Li mettiamo qua che camminano No, vabbè, io sono appassionato di animali Voglio passare i ratti e poi passo al pitone Però prima devo capire i ratti Poi passo al pitone E poi li dai da mangiare al pitone? No, per forza Il pitone lo devi nutrire con i ratti Ma mica con i ratti, per forza E me sa che è quasi una delle poche scelte Dici? Vabbè, affronteremo qualche conseguenza Comunque, comunque No, safe for work Attenzione Marra e Alex scolano di essere fatti l'uno per l'altra Nella live con Vicious Ma me la sarei sempre bombata Pure specie quando è stata interpretata Da Linda Cardellini Melma? Sì Crudo! Tanto a me sono tutte cazzate No, sei un po' meritato Sto crucio Reposto poiché pubblicato Il periodo di pausa pre-Boscar È stato perso negli ultimi Vabbè, non c'ho sbatti Ma che è? Ma che è? Ha la sigla quella vecchia antica? Ah, prima proprio È tipo una sorta di background video Mi ricorda un'estetica primi anni 2000 Ma mi ricorda la vecchia vecchia sigla Che ci aveva fatto un fan Che noi abbiamo lasciato per mesi Che sotto c'era la primissima canzone Che avevi fatto te Proprio la prima versione Sai che però se potrebbe fa Salviamolo Perché se potrebbe mettere Nella rotation Dei loop Dei loop Dei mettiamo Nei DJ set E c'è però parti Mandacelo via mail VHS death Grazie mille Un po' curtino però Ma ci piace il loop Mi raccordo Fai una cosa in arte Che sia loopabile ovviamente No, tanto si mette Fra un loop e l'arte Sì, basta Ah HD HD Allora dai Se è già loopabile Vabbè Mandacelo uguale dai Mandacelo almeno La qualità non viene meno Grazie della sincerità Spero non sia bannabile Un ospite Un ospite molto importante Che è anche Fa parte della community Whatsapp economy Che è un esperto in storia Uno studioso di storia Che ci racconterà un po' di fascismo E di chi è fascista Eccoci Io Fa ride perché ha detto Fascismo Fascista Fa ride no? O ha rotto e cazzo Tutta sta roba Di whatsapp economy A me ha fatto rito il fatto Che ha messo Il Io urlato Di quando dovevamo riconoscere Excludere Io e Mario Cruto Cruto Whatsapp economy Me lo immagino Tipo tutti incravattati Che parlano Solo in inglesismi No? Ieri stavo a matrimonio E uno mi ha spiegato Che cos'è un No già me lo so scordato E ho detto Ieri ho fatto un Era una parola inglese Ad una mia cliente Un Una due diligence No Un Rim job Che cazzo Ha usato una parola Ma che cos'è? E poi mi ha spiegato Era un file di testo Cioè un testo Quindi proprio l'ha chiamato Con una parola Che sembrava chissà che Secondo me si vestono Come quando ho fatto Scherzo a Marta io Tutti così Con le Hogan Potrei riconoscere Questo frame Ragazzi Ovunque So già di cosa Si sta parlando Ne vado ancora fiero Buona sera Porca La faccia di Rick E la mamma Ancora va Per lo stato italiano Si può dire Mi dissocio Comunque un saluto a tutti E auguri a Rick Il terzo mondo Dell'intelletto Questa è l'organizzazione Che noi abbiamo finanziato Gli abbiamo dato tutto Le armi Tutto Tutto Come si permettono Porco Dio Ma avevi No Porco putti Effettivamente Beh Scacco matto Rick Dufer Ipocrita Confermato Ma dove andava Che persona Ma aspettavo Dall'altro da lui Che poi quella Era la live Del suo compleanno E aveva invitato Marra Perché ancora Non ci avevo mai parlato Con Rick Lo conoscevo solo Di nome Così E la mia idea Fu quella di bestemmiare E lui si è incazzato Proprio tanto Se si è stoppata la live Tipo per 5 minuti Tutti internet Voi ospitati Nella Scusa Me stesso Scusami E lui Che la prima cosa Che fa è bestemmiare Poi voi ospitare Il pattern Il pattern Il pattern è sempre quello C'è uno che si organizza Con qualcun altro E uno degli altri due Tira il bestemmione Sapendo che non può dirlo Per far fare la figura Del merda All'altro Il pattern È esattamente questo Sì 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 Bravo È vero È vero 3 giugno 2000 Anzi no 3 erano i voti Wow Giugno 2021 Non era uscito Il primo merch Io preparai questi artwork Come proposte Ma fui costato Sia da Gianluca Che da Marra Beh sicuramente Perché non hai provato Con due dubbi La gente vorrebbe Sicuramente andare in giro Con sta cosa In petto Perché te non ci andresti Se non costava Ci andrei tutti i giorni Proprio Tutti Guarda Ma chissà perché Sono state gostate Però quella là Aspetta Però questa qua A petto nudo È bella È bellissima Questa mi piace Ci andrei in giro Questa pure è bella Dai Sì ma io sono un po' Già questa è meglio No è vero La prima mi ha un po' stunnato Però le altre sono belle Se la faccia De qualcuno addosso A meno che non sei Le Spice Girls Che cazzo Di Metallica È troppo commitment Cioè meglio Tu fai un cerbero Una roba Una grafica Sì Sennò magari Te piace pure Ma tu ti vergogni Annaccia in giro In mezzo al tuo gruppo D'amici Che non sa cos'è il cerbero Sì sì Ma pure tipo in giro Proprio con la gente Dal centro commerciale Ma io quella A petto nudo La metterei Perché non si capisce Chi è e chi non è È un coso Perché sei te però Esatto È un po' troppo commitment Per qualcuno Che magari segue Che ne so In disguise Ma io metterei pure Quella corwendico Per dire Non era male Se avessi Sei anni Sì Biologia No grazie Mitocondri No grazie Meglio un buon lupus Mitocondri Mitocondri Figata Mi ricorda Parasite Eve 2 Ci avete mai giocato? Mai sai? Da secco di tempo fa Mi ricordo pochissimo Mai cagato Perché si parla di mitocondri Perché ovviamente Cioè il mitocondro Se non erro Poi correggetemi studenti Freschi di liceo In chat Il mitocondrio È Il Si dice The powerhouse Of the cell Cioè dove Ci sta l'energia Della tua cell Di ogni cellula E il tipo È la centrale energetica De la cellula Sì The power Io l'ho detto in inglese Perché mi sa che l'ho letto in inglese È la centrale energetica Della cellula E in questo gioco Ovviamente fantascienza È tipo I mitocondri In realtà Sono degli esseri Alieni Dormienti Nel Nel Negli esseri Viventi Terrestri E a una certa Si risvegliano Facendoci trasformare Tipo in mostri Non solo umani Ma pure animali Si risvegliano i mitocondri Come sai che Max Ci sono fesi Gli adici C'è una fissa Per questo Poi c'era pure una canzone Di Bring me the horizon Che si chiama Parasite Thief Ah Sarà dedicata al gioco Nel ritornello Chiamiamo subito Max Le Jason Feb Assolutamente Lui ci darà un parere scientifico Le Jason Feb subito Su queste cose Che scherzi Cinque imitazioni Cinque imitazioni A tema Cerber Questo è Ray Jackson Che imita Porco 2 Che imita Il cringe C'è crisi di identità Match Bellissimo Ma che me stai a dimetti A parte che l'ultimo Secondo Vabbè Prima vediamolo Dai Prima vediamolo Non me va a dire Vediamo Cinque imitazioni A tema Cerbero Pod Cioè non mi piace Comunque La logica Guerra tra falliti Virgola Non mi interessa Due Greveci Tre Una goduria Per il palato Quattro Dunque Dunque Cinque Cioè si è messo pure lui Ma che crisi di identità Ci devi avere Per partorire una cosa del genere Cioè Er cringe E lui Non è che er cringe È un format Cioè er cringe È un essere umano Che parla così Sta parlata così Ed è spontaneo Er cringe Questa è un'imitazione Proprio Patetica Un'imitazione patetica È un'ammissione Di manifesta inferiorità Eh sì I suoi meme Sono stati criticati Lui ha detto Vabbè a questo punto Divento il cringe Perché il cringe È acclamato Perché mi è superiore Mi spiace Vabbè Il cringe è superiore A Dio Per me E poi hai visto Sull'immagine del cringe Che cosa ci ha scritto lui Ci ha fatto caso Vediamo Il quinto posto Ora I primi tre Siamo io Te e Davide Poi c'è lui E poi c'è il cringe E guarda che ha scritto Sono arrivato secondo Ai Boscar Con tipo Una meteora Che cazzo Crucio Come a dire Che sarà una meteora E poi la gente Se scorderà di lui Non è riuscita Neanche a prime già Ma come ti permetti Sono arrivato Secondo ai Boscar Come per dire Ho perso Capito come Crucio Crucio Mamma mia Se lo merita Se lo merita Tutto E col cazzo Che Non è che il cringe È una meteora Tu non sei proprio Niente Ray Jackson Mi stai impessando Un zimbello Da PA Per culo Per le cose Schifose Che fa Ma lei ha appena criticato Lui Dai basta E siamo alla fine Torniamo in cima Sono bravi ragazzi Sono bravi ragazzi Ma dobbiamo dire Cazzate o la verità Ma tu per quanto Mi riguarda Devi dire Quello che vuoi Grazie Mamma mia Che me sono soffro Però mi ha fatto rire Di me Dispiace Soffro E però Ho usato pure Il futuro anteriore Soffro La battuta Della settimana Ho messo new Riccardo Inter Un uomo Va Al gabinetto Splash Ok Cioè ormai siete proprio Defunti siete Cioè mi sembra tipo Degli zombie Copie di voi stessi Ma dai Basta No Fegli È la vita È la vita Basta tu Basta tu Porco Dio Basta tu Sono i giovani Che sono fatti così Cristo Basta Sei mai stato giovane Sono i giovani Sono i giovani Se vuoi fare qualche crucio C'è la bacchetta Ah qualche crucio Sono i giovani Che sono così Imperio Ma che argomentazione è Sono i giovani Prima facevo ride Però non fanno più ride Sono la copia brutta Sono i loro stessi Porca troia John Wick Non me lo fa fa Me ne manca solo una Non me lo fa fa Simone Lo faccio No Lavata no Lavata no Lo faccio No Lavata no Lavata no Lo faccio Fai scudo Simo Guarda che lo faccio No 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 Che squali Stati a arrivare E' no Croccia E mancava solo questo che è una merda Ciao, ciao a tutti